faccio figure di merda su youtube faccio figure di merda su youtube sì meglio quello è il mio stile chi non guarda i video fa figure di merda io faccio dei bei video faccio dei video demenziali da ridere no figure di merda faccio figure di merda su youtube faccio figure di merda su youtube sì quello è il mio stile faccio video demenziali da ridere no figure di merda su youtube chi non guarda i miei video fa figure di merda sì figure di merda figure di merda figure di merda questo è il mio stile chi non guarda i video fa figure di merda sì figure di merda figure di merda figure di merda figure di merda figure di merda